Prendere il via domani e proseguirà per tutto il mese di agosto la diciannovesima edizione della stagione di concerto di musica nei parchi regionali organizzata dall'Associazione Ensemble 900, che da oltre 15 anni si dedica all'organizzazione della stagione di concerti di musica antica denominata 600-900 con strumenti d'epoca del XVII e XVIII secolo. Manifestazioni di alto interesse storico e musicologico che molto spesso si avvalgono dell'utilizzo di organi storici poco noti nel panorama strumentale della nostra regione. Quest'anno la stagione dei concerti girerà per le aree verdi e protette d'Abruzzo. Ensemble 900 è un'associazione che da anni lavora con delle manifestazioni musicali di altissimo livello a valorizzare questi nostri territori. È stato fatto un lavoro significativo che va nella direzione del recupero degli organi di San Valentino proprio perché vorremmo ricostruire quella che è la storia delle opportunità in termini musicali delle nostre realtà, anche la musica sacra. In questo contesto si inseriscono queste iniziative che oggi presentiamo e che servono ancora per i prossimi anni a valorizzare questo nostro territorio. Una serie di concerti importanti con delle location molto belle, ad esempio la fortezza in Santo Spirito ad Ocre, San Valentino con le sue chiese barocche, veramente tantissime località. Apriamo il primo di agosto, come ho menzionato Stefano Bagliano, e chiudiamo il 30 di agosto a San Valentino con l'Ansamble Musica della Camera di Napoli, con un programma dedicato al 700 napoletano. All'interno di questa fascia di concerti abbiamo tre premi internazionali. Ecco, ci terrei a citare un importante organista, Dimitri Goldobini, che si cimenterà con un bellissimo organo del 600 a Scanno, presso la chiesa di Sant'Eustachio. Poi abbiamo le nostre produzioni quest'anno dedicate ad Antonio Vivaldi e ad altri compositori del 700 Veneto.